La guerra evidentemente ha un impatto sulla popolazione immediato, è evidente, ci se ne rende conto tutti. Ed è multiforme, è multiforme anche molto dilazionato nel tempo, nel senso che è evidente che durante la guerra si muore di più, questo mi pare ovvio, non solo chi combatte ma anche la popolazione civile. Un secondo aspetto è che evidentemente, e questo riguarda in particolare la prima guerra mondiale, ci si sposa di meno, perché certamente un po' per le perdite dirette, un po' per la necessità di spostare un evento così importante come il matrimonio, ci si sposa di meno. E quindi, di conseguenza, soprattutto, ripeto, per la prima guerra mondiale, l'impatto sulle mancate nascite è immediato e fortissimo. Quindi aumentano le morti, diminuiscono i matrimoni, diminuiscono fortemente le nascite, e questo è evidente che si riflette su tutta la vita, il corso di vita di una persona, di una famiglia, della popolazione. E c'è poi da considerare che durante la prima guerra mondiale, con le trincee di cui parliamo tanto in questi giorni, si spostarono centinaia di migliaia di giovani, anche dal sud evidentemente, non solo quindi di queste zone, e questo fece scoprire un'altra Italia, agli italiani, sia agli italiani del nord, che si accorsero che esistevano gli italiani del sud, sia agli italiani del sud, che percorrendo tutta l'Italia, per venire spesso a morire qui su, si accorsero che c'era un enorme paese. Ecco, l'unico aspetto positivo della prima guerra mondiale è stato che gli italiani hanno scoperto l'Italia e quindi hanno ritrovato una radice più ampia, un senso di appartenenza al paese, di colleganza con gli altri abitanti del resto d'Italia, che fino allora non c'era stato. Tragicamente bisogna dire che la prima guerra mondiale ha contribuito fortemente a fare l'Italia. Certamente ci sono stati effetti economici indiretti anche importanti e positivi, tra virgolette. Per esempio l'industria bellica si giovò di nuovo, tra virgolette, molto positivamente della guerra. E così anche tutto lo sforzo di ricostruzione è stato notevolissimo e quindi ebbe un effetto positivo sull'economia. C'è da ricordare però che purtroppo proprio in coda alla prima guerra mondiale si ebbe l'epidemia di Spagnola. E questo spesso viene trascurato. Invece si congiunsero gli effetti demografici diretti e indiretti della prima guerra mondiale a quelli della Spagnola. E quindi veramente dal punto di vista demografico è stata una grandissima tragedia oltre quella umana della guerra propriamente detta. E c'è da dire che da allora le cose in Europa sono cambiate moltissimo. Non solo perché tra prima e seconda guerra mondiale l'orrore della guerra è stato tale che poi ci ha portato alla Costituzione della Comunità Europea prima e dell'Unione Europea dopo ma è cambiata proprio anche l'atteggiamento della gente e dei governanti. Nel senso che le persone non sono più disposte a morire per un ideale, se così si può chiamare, e i governanti non hanno più il consenso se lasciano morire un gran numero di persone. E così abbiamo inventato un nuovo modo, per esempio quello dei droni, per cui le bombe non le portano più i singoli piloti con un aereo ma li portano aerei autocomandati. E quindi la psicologia, ripeto, della gente e dei governanti è cambiata molto dopo i massacri della prima e della seconda guerra mondiale. Però è da dire che la prima, come è ben noto, d'altra parte, che la prima guerra mondiale ha avuto un impatto demografico per morti, mancate nascite, molto superiore a quello della seconda guerra mondiale. Se nelle numerose battaglie dell'Isonzo siano morti 123.000, faccio per dire, non ricordo a mente il numero, o 123.000 persone o 124.000, credo che nessuno ci si possa giocare alcunché. Ma che cosa cambia? Intanto dobbiamo chiederci che cosa cambia se noi li valutiamo in 123.000 o 124.000. E poi c'è da considerare un'altra cosa, che comunque la burocrazia, diciamo meglio l'organizzazione amministrativa, è comunque molto forte e quindi un certificato di morte va in ogni caso compilato, perché se no non ci può essere la sopravvivenza burocratica della famiglia. E quindi i certificati di morte furono compilati sempre con molta accuratezza. e se c'è un matrimonio il matrimonio viene registrato dal sindaco o dal parroco e quindi la fonte c'è. Le dirò che anzi le fonti erano molto più accurate allora di quanto siano adesso, perché oggi ci sono dei comportamenti informali molto più diffusi che non lasciano traccia burocratica. Mettiamo due ragazzi che si mettono insieme a vivere, coabitano ma noi ne abbiamo più traccia. Questo cent'anni fa non accadeva e se abitavano insieme c'era il matrimonio. E il matrimonio aveva una traccia burocratica e amministrativa. Quindi devo dire che i dati sono abbastanza accurati. e pensi che il primo grosso volume di statistiche, di valutazione degli effetti demografici della Prima Guerra Mondiale uscì già nel 25, cioè pochissimi anni. Un grosso volume fatto da un grande statistico, Giorgio Mortara. Tra l'altro io sono stato l'ultimo suo laureato. Grazie per il suo lavoro. Grazie per la visione.